La lotta a randagismo inizia da te e è la campagna di sensibilizzazione lanciata dal comune di Caltanissetta contro il fenomeno che vede sul territorio l'abbandono indiscriminato di cani. Per sensibilizzare la cittadinanza, in concomitanza con la fiera di San Michele, è stato creato uno stand proposto per fornire tutte le informazioni utili. L'obiettivo che ci siamo proposti è quello di informare più persone possibile sulla piaga che ancora c'è a Caltanissetta sul randagismo. Abbiamo cercato di sensibilizzare soprattutto i bambini perché è da loro che deve nascere il cambiamento. I bambini sono molto curiosi, ci chiedono, sono tantissimi che ci chiedono cosa facciamo, che cosa vogliamo fare con i cani, se li prendiamo. In effetti qua ne abbiamo trovati tantissimi anche in giro cani paganti che con la nuova legge che è uscita quest'estate andranno a aumentare il numero dei cani in canile. Il randagismo nasce proprio da questa cattiva abitudine che hanno le persone di non sterilizzare, non tenerseli, abbandonarli, farli accoppiare. È una piega che bisogna assolutamente smontare. Il fenomeno randagismo è la cultura del cane come animale d'affezione, animale domestico, eccetera. Il famoso pet ancora non è molto forte da noi e quindi c'è un po' di differenze, manca l'empatia nei confronti di queste povere creature che soffrono davvero la fame, la sete, il freddo, il caldo e quindi magari muovono per strada tra atroci dolori. Purtroppo questo le persone non lo capiscono. Noi abbiamo cercato di spiegare un pochino come contrastare questo fenomeno, da dove parte. È semplicemente meraviglioso quando poi vediamo i piccoli che salviamo dalle strade, partire al nord dove trovano le famiglie, quindi dove poter trovare la giusta serenità per il cane. Sterilizzare il proprio cane, non abbandonarlo, adottare dal canile sono solo alcune delle azioni utili e poi c'è anche un numero dedicato, lo 0934 74 430 per le informazioni. Grazie a tutti.